mamma mia che bello questo suono delle schiume bellissimo ciao come va? benvenuto a un altro video di ASMR in italiano questa volta ho voluto portare un ASMR con audio e nove se ti piace questo video a 5000 like faremo il prossimo video di ASMR italiano quindi like e soprattutto lasciami qua sotto nei commenti se ti piace oppure no il audio è nove anche se ti piace io devo dire io devo dire che i tanti suoni grido mi piace tantissimo mi fa morire mi rilassa molto spero che anche te mi fa venire molto formicolino se ti piace 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 Sì, non è vero. allora per questo video di audio 9D ho portato molti suoni che io amo e adoro e mi piacciono molto vediamo qual è il tuo preferito di questi suoni che ho portato oggi allora non ti preoccupare per negrito che lui ha la capacità di respirare per le schiena e le spalle quindi niente paura lui sta benissimo quindi no, non preoccuparti 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 Grazie a tutti 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 Cuore di cuore